A questo punto presentare Riccardo Zimmerman, che è uno dei fiori del boccello della nostra società. Lui è un ragazzo paralimpico, paratekondo, quindi è un ragazzo diversamente abile, che con l'allenamento è diventato un punto fisso, un punto fermo della nazionale italiana di paratekondo. Ha conquistato con la nazionale italiana di paratekondo, io vado a Ricordi, mi aiuta molto la cosa, però se non ricordo male è il secondo posto a livello mondiale, ai campionati mondiali, è stato due volte il campionato d'Europa e qualche altra medaglia di più di me, non ricordo. Oltre ad essere campione italiano imbattuto da quattro anni, quattro anni. Quindi penso che meriti un applauso, oggi ci farà vedere una forma con cui lui ha vinto i campionati italiani. Facciamo un altro applauso a Riccardo Zimmerman. Grazie. Grazie. Grazie.